Ehi, siamo? Ok, siamo qui a Piccademi Circo, siamo contratti per andare a pranzo, l'abbiamo fatto anche l'altro giorno perché c'era troppo freddo. Sì, niente, mi faccio vada, un saluto a Sant'Rubio, so che mi devo riprendere, che devo fare un altro film, e niente, comunque ci metteremo d'accordo, comunque so che l'abbiamo detto varie volte, ma anche io da parte mia so che devo farlo. E niente, vi auguro una buona domenica, oggi 28, e tu Giovanna che dici? Io dico soltanto che quando vedo Manola mi sento che il mondo sta andando veramente bene, che è tutta una finta tutto sto casino, in realtà ancora va tutto bene. Guarda che, no, no, ma guarda che non so se Giovanna pure ha visto che sul treno non c'è gente con la mascherina e assolutamente hanno chiesto che faremo, a tutti hanno detto buoni se la fa un culo perché nessuno ti farà casa, nessuno seguirà. Noi l'abbiamo fatto mai e la gente dice non lo faremo neanche adesso. Stanno finendo appunto con l'alfabetta del greco, ok? Quando avranno finito si attaccheranno. Comunque tutto è bugia e mi raccomando, non vaginatevi, assolutamente che è tutto veleno. Ma possiamo fare un balletto? Abbiamo anche la musica. Guarda là, guarda là, chi sei? Sì, di mascherina ce ne sono veramente molto poche. Sì, 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 no, no. Vabbè, a meno che non sia da domani, domani l'altro, forse qualcuno in più. Ma al momento possiamo garantirvi che si sta bene, la libertà in pieno, non ci sono mascherine, non c'è gente che ci guarda male o che ci fa sentire in colpa. Comunque dobbiamo ancora andare nel ristorante. No, ma i ristoranti no, i ristoranti no perché hanno detto che era sombro retail, sono solamente negozi e per il trasporto. Il trasporto ci possono fregare perché non le mettere. non le mettere. Ok, ballare, forse. Eccola qua, Manola. Ciao, ciao, ciao.